Una settimana fa una decina di giovani, dopo abbondanti libagioni di birre superalcolici, avevano danneggiato gli arredi di Piazza Mamilia Nuoro, uno spazio urbano che si sviluppa attorno al mercato civico. Un'azione interrotta dall'arrivo dei poliziotti, della squadra volante e della questura, chiamati dagli abitanti esasperati dal lancio di bottiglie e pezzi di marmo verso gli edifici e i portoni. Una serata burrascosa terminata col fermo di due giovani di 23 e 27 anni denunciati per danneggiamento. Un terzo ragazzo è stato denunciato successivamente. Ieri le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli mirati per prevenire e se dal caso reprimere episodi di disturbo dalla quiete pubblica e di vandalismo. Alle 23 è scattata un'operazione interforza e disposta dal questore di Nuoro Pierluigi D'Angelo nei principali luoghi di ritrovo della città. Qui hanno partecipato tre equipaggi della squadra volante e due dell'arma dei carabinieri. Nel corso della serata sono stati identificati un centinaio di giovani. I controlli, sottolinea la questura, hanno anche lo scopo di verificare il rispetto dell'ordinanza del sindaco di Nuoro emanata il 21 giugno scorso che vieta dalle 21 alle 6 del mattino per motivi di sicurezza urbana il consumo di bevande alcoliche al di fuori dei locali autorizzati e nelle aree pubbliche del centro di Nuoro. Nel corso dei controlli non è stata rilevata alcuna violazione dell'ordinanza. La questura sottolinea che grazie ad una disposizione emanata dal questore e a tutte le forze di polizia i controlli sono stati intensificati, specie durante i fine settimana.